Dopo 48 anni questi amici sono venuti qua per questo incontro. Ritrovarsi dopo 48 anni capita e oggi diventa più facile grazie alle nuove tecnologie. È la storia che ci raccontano questi cinque amici. Arrivano da Belluno, Bolzano, dal Friuli e si sono ritrovati qui a Bassano dove abita uno di loro, Giovanni Zambon. Abbiamo fatto il corso 48 anni fa a Roma sotto ufficiali e oggi ci siamo ritrovati qui. Giovanni era il capogruppo Roberto che abita a Cervignano del Friuli e era il suo vice. È stato lui ad avere l'idea di una rimpatriata con i suoi compagni di leva. A luglio ho trovato il giornalino del corso, 102 di noi, e ho detto perché no? Adesso che c'è le mail, Facebook eccetera, mi sono messo alla caccia. E così poi ha scritto una lettera e l'ha inviata Paolo che vive ancora al suo vecchio indirizzo di Belluno. Paolo ha ritrovato Giorgio, suo copa esano e grazie a Facebook e alle mail ecco che hanno contattato anche Angelo di Bolzano e Giovanni di Bassano. Grazie a lui ci siamo ritrovati e speriamo di ritrovarci ancora di più. L'amicizia di 48 anni fa è rimasta immutata, questo è il loro messaggio. Abbiamo scelto Bassano perché è un bellissimo paesetto, anzi un paese grande, una cittadina. Oggi per loro un pranzo insieme e gli auguri di Natale e la speranza che grazie a Rete Veneta si possano aggiungere a questa bella riunione altri commilitoni. Adesso spero di trovare gli altri 60, intanto cominciamo così.